Luana, pertanto come definiresti TransferPy? Lo definirei come il sistema più straordinario, perché hai la possibilità di trasformare innanzitutto un costo, dei costi che hai ogni giorno, in guadagni. Anche perché puoi trasformare i costi delle persone intorno a te in guadagni. E quindi ogni volta che un tuo amico prende un caffè o fa una doccia, si lava i denti, guadagnare. Quindi anche quando sta, per esempio, noi adesso stiamo viaggiando, quindi che succede? Guadagniamo, stiamo guadagnando. Perché? Perché a quest'ora del pomeriggio sicuramente c'è qualcuno che sta prendendo un caffè, visto che è dopo pranzo. E quando andiamo a dormire? Guadagniamo, perché c'è qualcuno dall'altra parte del mondo che si sta svegliando o si sta lavando i denti o sta facendo la doccia. E lo stesso quando ci alziamo la mattina. Felicissimi di svegliarci, perché c'è sicuramente qualcuno che si è svegliato prima di noi, ha già fatto una doccia, ha già lavato i capelli, si è già truccato prima di andare a lavorare, oppure ha già preso una buona tazza di caffè o di tè verde. Pertanto il transfer buying è proprio per tutti, è una cosa eccezionale, è una cosa fantastica. Grazie a questa opportunità possiamo veramente lavorare da qualsiasi parte vogliamo, possiamo lavorare mentre siamo in viaggio, possiamo farlo mentre siamo in aereo, possiamo farlo dovunque, da casa. Ed è un'opportunità che può dare un ritorno importantissimo. Esatto, il transfer buying è davvero per tutti, è l'opportunità del secolo, non lasciartela sfuggire. Fai subito una richiesta, sarai ricontattato. Grazie. Ciao.